amici sportivi non poteva che finire così con altri brividi per gli ultimi 90 minuti in cui palermo si giocherà il tutto per tutto per i playoff dentro fuori e quindi è quella che noi potremmo definire un'anticipazione dei playoff cioè di quelle gare in cui ti giochi tutto e devi dimostrare di avere non soltanto qualità tecniche ma anche qualità caratteriali cose che secondo me sono in parte mancate anche a cagliari e dove per l'ennesima volta il palermo si è fatto rimontare ha perso una partita che aveva giocato molto meglio degli avversari per lunghi tratti di gara e insomma la classifica è quella che sappiamo il palermo ottavo con la possibilità vincendo di essere certo dei playoff e con la quasi certezza che se finisce pareggio il palermo sarà fuori quanto valore hanno i playoff quanto varrà anche l'entusiasmo ad una piazza che sogna il ripetersi del film dello scorso anno quello della promozione in serie b sono questi gli argomenti che trattiamo insieme al capo banda ciao fabrizio ciao guido buon pomeriggio e al decano al decano centenario mi vorrebbe da dire salvatore geraci come sempre grande forma al suo posto ciao salvatore e soprattutto direi anche insieme a voi amici e sportivi che seguite da casa e che continuate a farmi impazzire perché io continuo a vedere un contrasto troppo forte fra l'entusiasmo da stadio e le troppe critiche anche anche domenica scorsa troppe critiche alcune giustificate peraltro nei confronti soprattutto di corini che continua a essere l'unico personaggio al di sopra della squadra che parla pubblicamente visto che non parlano dirigenti non parla il direttore sportivo ed è lui un po a tracciare la rotta di questa di questa squadra che comunque ha dimostrato nei fatti anche perdendo di credere nei playoff e di avere anche qualche chance perché salvatore per esempio cagliari palermo di sabato scorso che potrebbe essere anche il primo turno dei playoff a seconda degli altri risultati non mi sembra che il palermo sia battuto in partenza ma sai io non parlerei in questo momento dei dei playoff perché tu dici anticipo dei playoff ma più che anticipo dei playoff quella forse ho detto domenica abituato come ero per 40 anni quella di venerdì è una una sfida per me senza ritorno poi si apre un altro campionato e ogni partita sarà decisiva in questo c'è sicuramente qualcosa che assomiglia a palermo brescia ma la stagione si apre soprattutto a nuove prospettive il palermo quante volte potrà contare sul fattore campo o sull'appoggio del del pubblico questo per ditti che non sottilizzerei perché anche in campionato non parti mai per careggiare o perdere insomma tu vai dentro e vuoi il risultato pieno solo che stavolta non c'è la possibilità di sbagliare cioè palermo brescia diventa una partita che o è più o è assolutamente meno è la partita chiave che potrebbe consentire al palermo di partecipare al nuovo campionato per il posto in serie a quindi io non andrei a cercare confronti da prima e dopo questa col brescia è una sfida scusatemi l'espressione all'ultimo sangue punto e basta due sole le differenze si gioca in casa e c'è brunori tra l'altro lo diciamo anche ai tifosi un po meno attenti il palermo deve vincere pareggiando andrebbe ai playoff soltanto nel caso in cui lo scontro diretto fra regina ascoli finisse pareggio e il pisa non battesse in casa la già retrocessa spal e poi forse il coma non deve vincere o il moglie ci sono troppe combinazioni che intervengono sostanzialmente col pareggio difficile mentre il brescia certamente farà i play out però perdendo non è detto non è detto perché dipende molto dal risultato di perugia certo però il perugia deve battere il già retrocesso benevento e vincendo si garantirebbe il play out nel caso in cui il brescia perdesse a palermo cioè con la vittoria del perugia molto probabile e la sconfitta del brescia e il brescia ad andare direttamente in serie c e poi con ogni probabilità cosenza il cosenza farebbe il play out con una delle due squadre il cittadella giocherà in casa colcomo gli basta poco per salvarsi la ternana credo che gli basti un punto per essere certo di salvarsi quindi ormai la lotta si è ridotta moltissimo e devo dire anche ripensando a tanti discorsi che abbiamo fatto per nove mesi i primi a cadere sono stati il benevento e la spalla la terza a cadere sarà una fra perugia e brescia chi è che l'avrebbe previsto 30 settimane fa per esempio quando il campionato era ancora all'inizio e ci si lamentava anche del rendimento del palermo alla fine le squadre che tutti mettevano diciamo in lista per retrocedere tipo il cosenza tipo il como tipo il cittadella alla fine o in modena si sono salvate più o meno con tranquillità e invece alcune presunte grandi o comunque piazze importanti negli ultimi anni per il calcio sono scese fabrizio tu da che parte stai perché cagliari non so se ti ha fatto arrabbiare per come maturata la sconfitta o se ti ha fatto vedere qualcosa oltre per il fatto di aver giocato bene almeno un'ora ma cagliari mi ha fatto arrabbiare perché si sono ripetuti gli stessi errori che vanno un po diciamo in scena da tempo soprattutto nelle ultime trasferte il palermo le ultime quattro trasferte le ha giocate imponendo quasi un proprio stile di gioco e poi vanificato è passato in vantaggio perché è andato quasi sempre in vantaggio da venezia a como a cagliari l'ultima e poi vanificato tutto con degli errori veniali e quindi evidentemente c'è una connotazione riguardo agli uomini alle capacità tecniche di questi uomini che a turno hanno sempre combinato qualcosa qualcosa che poi ha compromesso una prestazione che comunque non ha mai visto il palermo stare sotto soccombere rispetto all'avversario anzi a lunghi tratti si è visto in diverse occasioni si è visto un palermo che andava a fare il proprio gioco quindi questo che cosa significa significa che la squadra è questa qua che tutti i limiti di cui abbiamo parlato in questi nove mesi si sono andati a confermare anche perché il mercato di gennaio non è andato incidere come si pensava all'inizio perché anche lo stesso verra cagliari è stato tra quelli un po più sottotono e quello che mi lascia diciamo la lettura positiva è appunto la prestazione l'aver cercato di fare gioco contro un avversario in casa proprio che non è sicuramente agevole e che magari può lasciare un spiraglio di positività qualora il palermo dovesse centrare questi benedetti playoff e dovesse incontrare una squadra che potrebbe essere proprio il cagliari perché comunque ranieri qualche difficoltà l'ha avuto in questo confronto anche cambiato la disposizione degli uomini perché nella parte centrale del primo tempo non riusciva a venirne fuori e quindi questo vorrà dire qualcosa in questo in quest'ottica sono sono abbastanza positivo a patto che si eliminino questi errori marchiani che vanno in scena ormai ci sono tante cose da dire perché per esempio non si può pigliare i gol su fallo ladrale la seconda espulsione secondo me era evitabile anche se poi lì però vorrei dire ho sentito anche critiche su corini che non ha cambiato marconi non è che uno prende un'ammunizione e va subito sostituito l'ammunizione la seconda ammunizione viene dopo tre minuti e comunque non ci sono queste grandi scelte perché poi bettella che ha giocato anche benino secondo me l'ultima mezz'ora di gioco era uno che non giocava da tempo il palermo arriva con il fiato grosso con gli uomini contati quindi non ha neanche troppi cambi a disposizione si poteva fare qualcosa di diverso sicuramente però si è perso a cagliari non malissimo dal punto di vista del gioco e il cagliari veniva annunciata come una grande squadra io direi intanto di guardare un po di commenti perché già vedo arrivarne tanti siccome oggi e mi tocca dirlo anche per chi se lo andasse i quei tanti fan di giuseppe leone che se lo domandano giuseppe leone in questo momento non c'è è stato avvistato con maschera e boccaglio dalle parti di qualche sottopasso se riuscirà a divincolarsi a nuoto riusciremo a collegarci con lui anche dopo ma nel frattempo siamo tre e abbiamo quindi più spazio per dedicarlo anche ai nostri amici ascoltatori fabrizio cominciamo a sentire il posto della community perché insomma il dibattito è sempre vivo è sempre acceso noi ringraziamo tutti coloro che ci scrivono e commentano insieme a noi le vicende del palermo cominciamo da agostino pernice basta incompetenti anticoriniani la squadra costruisce trame gioco schemi e reti sia in casa dove il bottino di punti è stato buono sia nelle trasferte dove abbiamo il quarto attacco della categoria walter guccione buongiorno in fin dei conti a quest'annata possiamo dare un voto 6 e mezzo poi c'è già chi pensa alla sfida di venerdì sera come agostino alaimo un pomeriggio a tutti venerdì siamo all'ultimo atto venerdì sera andiamoli a sostenere poi per agostino per nice il problema sono i limiti tecnici individuali dei singoli che ci sono costati una 15 una quindicina ventina di gol evitabilissimi anche ancelotti neanche ancelotti avrebbe potuto fare di meglio geno corinio come alex ferguson per altri 20 anni diamo un dato sottolineiamo che il palermo quest'anno guido dalle posizioni di vantaggio ha sperperato ben 23 punti sono tanti 23 punti complessi nel campionato e credo 14 se non ricordo male soltanto nel giro nel ritorno hai fatto questa ricerca paziente che è assolutamente vera ma limitandoci proprio allo stretto finale a cagliari hai perso tre punti eri in vantaggio ne persi tre col como eri in vantaggio e pareggiato con il benevento eri in vantaggio e pareggiato a parma avevi pareggiato ti sei fatto beffare nel finale quindi ci sono stati degli errori salvatore è il limite che ci portiamo dall'inizio dell'anno è qualcosa che manca e che bisognerebbe trovare una soluzione certo è proprio questo il la verità è che il palermo è la squadra che a parte modena cosenza e brescia incassato più voli in trasferta 32 no è vero come diceva il uno che ha che ha scritto un messaggio che il palermo ha segnato di più è solo meno di frossinone bari e genoa in trasferta però la stagione del palermo è stata costruita in casa con 31 punti insomma è proprio da big della della serie b questi numeri disegnano un disagio una mancanza di equilibrio e quali corini non ha saputo porre rimedio a questo è il vero indicato del del palermo che in caso di play off guarda guarda caso si troverebbe in difficoltà con qualunque avversario riguardo al fattore campo ancora messaggi fabrizio allora andiamo con un nostro aficionato leonardo ferdico rosanero non ci scordiamo che senza la penalità della regina saremmo al nono posto poi rosario adriano orlando sabato era a cagliari ho visto una bella partita giocata dal palermo purtroppo segnata da episodi con il brescia possiamo raggiungere questi benedetti play off dove può succedere di tutto ancora costino per nice il palermo costruisce giochi d'occasione in casa come nelle trasferte dove abbiamo il quarto attacco della categoria questo già l'avevamo letto andato a ripetere un concetto già espresso c'è chi ci ricorda l'ultima giornata una questina laima ultima giornata perugia benevento parma venezia e cosenza cagliari ci sono degli incroci comunque dei quali può succedere un po di tutto marco bianco verre sottotone lento sul palleggio fa una scivolata inutile che regala la rimessa laterale e sbaglia anche altri passaggi facili non c'è soltanto di verra c'è la dormita di marconi che a cui tutti noi vogliamo bene stimiamo come giocatore perché comunque quest'anno è stato utile in moltissime occasioni è andato a tappare una zona di campo in cui il protagonista doveva essere sicuramente bettella però va detto che proprio sabato perde quell'attimo di tempo per dare delle indicazioni al compagno si fa trovare impreparato però vorrei aggiungere anche che la dormita è globale perché dorme anche gomez che nei paraggi dormono anche al centro dell'area dove la palla arriva poi dopo 5 6 secondi c'è tempo di rimediare quindi attribuirle soltanto a marconi al quale vorrei dire diciamo con tutti i limiti della partita perché poi nei fatti salienti c'è stato lui è stato lui anche nell'azione del gol del palermo perché il suo assist di testa è stato sicuramente buono devo dire che io l'espulsione l'ho ritenuto un po' severa avrei francamente fischiato un fallo per marconi qualche secondo prima sì c'è anche l'arbitraggio l'arbitro mi è sembrato un po' troppo così volenteroso di essere protagonista l'espulsione tecnicamente ci può stare una seconda munizione però come ha detto corini tra l'altro forse anche a fine partita c'era un disturbo su marconi disturbo tale da farlo arrivare in ritardo poi sul contrasto continuo si continua continua giuliano mollica il palermo è decima come montengaggio ottava allora il palermo è decima come montengaggio ottava come valore alla rosa siamo in linea con le nostre potenzialità giochiamoci i playoff mi sembra che però ci sia un'atmosfera molto più distesa è un tenore molto più benevolo nei confronti di quella che è la settimana che porta comunque poi a una serata in cui ti giochi tanto probabilmente anche il tenore dei nostri dei nostri tifosi è dovuto a questo come spesso hai fatto quest'anno ti sei soffermato su brunori intanto come hai visto l'esperimento senza brunori di cagliari cioè tutino e soleri e poi vido soltanto nei minuti finali ma mi pare che tutto il palermo abbia giocato una buona partita sono d'accordo con quanto avete detto cioè il palermo a cagliari è stato all'altezza della situazione addirittura in alcuni momenti è stato superiore all'avversario tanto che ranieri ha dovuto cambiare atteggiamento tattico proprio per limitare quello che era una supremazia una supremazia del palermo a me tu lo sai io ho criticato l'ho criticato tante volte però a me tutino è piaciuto e francamente forse si poteva in un certo senso girare in moto che tutti non restasse in campo perché era il giocatore che più dava fastidio che più dava fastidio al al cagliari quindi su tutti non sono d'accordo anche io salvatore ha giocato una partita buona secondo me il problema è che lì forse più soleri di tutino poteva garantire la caccia ogni pallone in inferiorità numerica però a me però a me soleri a me soleri piace sempre perché uno che va in campo e fa il suo compito come l'allenatore gli comanda e con tutta la passione con tutta la grinta di questo mondo non puoi mai dire a soleri si è risparmiato non era in condizione eccetera eccetera lui da tutto ovviamente giocare con con brunori è una cosa giocare puttino e soleri è tutta un'altra cosa anche se nella partita precedente il palermo aveva fatto un mucchio di gol ma non era la regola lo sapevamo tutti la verità è che brunori in questa squadra è assolutamente indispensabile e mette in seconda luce tutti gli altri costringendoli a giocare sempre la partita della vita cioè anche video e sai se tu lo impieghi per 10 minuti 20 minuti si uno può può essere anche un fenomeno come l'anno scorso lo è stato soleri ma non sempre questo questo ti riesci ora vi vorrei però anche sfruculiare un pochettino su un altro paio di giudizi che ve lo chiedo anche in prospettiva di futuro immediato cioè la partita con il brescia e l'eventuale playoff abbiamo regalato anche l'altra volta un giocatore che verre io l'ho ritenuto uno dei peggiori della partita neanche un tempo ha fatto questa volta si è visto soltanto poco e male all'inizio della ripresa a me personalmente non è piaciuto neanche gomez anche se poi a giudicare dai commenti sono giudizi abbastanza contrastanti su gomez e che però mi sembra un po troppo ancora incapace di dare un cambio di passo e di dare personalità al centrocampo volevo sentire fabrizio cominci tu e il vostro giudizio su questo centrocampo che la guarda per quanto mi riguarda gomez è in crescita rispetto alle ultime prestazioni l'ho visto più dinamico più propenso al recupero palla e alla ripartenza dell'azione dimentichiamoci una volta e per tutte che gomez sia un regista perché non lo è il ruolo di vertice basso di gomez è funzionale al recupero palla e alla ripartenza che poi da quando c'è dell'azione poi da quando c'è verre è deputata ai suoi piedi soltanto che verre in questo momento non riesce ad essere quello che abbiamo visto all'inizio quando è arrivato che determinava incideva filtranti cambi gioco inserimenti senza palla in questo momento verre non lo riesce a garantire tutto ciò però io ho visto un centrocampo leggermente in segre gomez leggermente ripresa a gomez in ripresa sì però non mi pare che sia così determinante ma non ti farà mai un'apertura di gioco sul fronte però però per esempio ha fatto un'azione nel primo nel primo tempo in cui ha verticalizzato e ha creato e questo è quello che deve fare e ha creato le premesse cosa che fa molto raramente salvatore che succede a segre ma scusami no segni sa verre ho sbagliato a vero succede a vero assegnato stavo dicendo che è un giocatore preziosissimo no ma io prima di parlarti di verre ti vorrei dire che il problema è in generale più più ampio cioè questa è una squadra che parte con elia parte con stulas questa è una squadra che improvvisamente cambia strategie questa è una squadra che nei momenti migliori ha avuto degli infortuni assolutamente importanti verre rientra in in questo pacchetto ovviamente verre secondo me a vederlo giocare due tre minuti quattro minuti 10 minuti è un fenomeno ragazzi non si può discutere un giocatore come come verre è veramente un lusso uno dei dei pochi giocatori che ha che ha caratteristiche da b ma da anche non quindi non si può dire che verre in questo momento manca per colpe sue sicuramente non sarà bene appunto però salvatore scusami è proprio questo perché sulla qualità di verre non si discute ha fatto la serie a fino a tre mesi fa ha fatto vedere anche di cosa è capace in in più in più momenti piccoli momenti di partita la domanda che succede me la pongo perché poi gioca sempre c'è che possa esserci un problema fisico è capitato anche ad altri giocatori e sono rimasti fuori no ti dicevo che il problema è ancora più lungo perché tu sai che che verre non è in buone condizioni ma non è che ti dicono perché non lo è ti dicono perché ha avuto qualche problemino ma quali sono i problemini punto interrogativo se noi non li sappiamo non possiamo giudicare qual è il tempo in cui e di cui verrà di bisogno per rientrare nelle migliori condizioni resta semmai un interrogativo ancora più importante di tutti quelli che noi stiamo trattando ed è quando questa squadra riuscirà a superare determinati limiti per esempio quello accusato in difesa o quel accostato proprio nel nel gioco di squadra a cagliari abbiamo visto già un palermo più continuo e quanto tempo ci vorrà per portare alcuni giocatori importantissimi come verre e in piena forma considerato che siamo alle soglie e potremmo arrivare ai play off ma io penso che le domande posso dire la mia su verre sì nel senso volevo rispondere a salvatore penso il prossimo anno nel senso che quello che chiedi tu secondo me è difficilmente realizzabile in una barra due partite bisogna vedere poi come la squadra verrà attrezzata per il prossimo anno non ci sto non ci sto a questo se tu entri nei play off tu puoi non starci quanto vuoi però siamo lì ma dico se tu entri nei play off hai pari dignità rispetto agli altri quindi hai pari dignità però c'hai c'hai un regolamento che ti costringe a vincere per esempio ho capito ma non è che per questo devi tenere verre fuori oppure devi pensare che il palermo non possa crescere tu devi fare di tutto perché questa squadra riesca a crescere ancora per 20 per 15 20 25 giorni 30 giorni poi vedrai se tutto se è servito non è servito ma non certo ma a livello a livello di tentativo sicuramente corinio va ripetendo da tre mesi io credo nei play off e ci creda fino all'ultimo e tra l'altro lo farà giusto giusto contro la sua squadra più più vicina che è il brescia che lui ha portato in serie appena tre anni fa e quindi ci proverà sicuramente io dico che purtroppo la lunga catena di infortuni a cui facevi riferimento e le alcuni problemi di condizione sono difficili da risolvere nel giro di 7 8 giorni è anche vero che poi però il carico di lavoro lo stress riguarda anche le altre squadre e poi ogni partita fa storia a sé fabrizio voleva intervenire ma siamo alla pubblicità ma no su verre dico che secondo me adesso è solo un problema mentale però ne parliamo subito dopo la pubblicità è solo un problema mentale allora intanto raccogliamo ancora messaggi ci sono pochissimi secondi di pubblicità non andate bene via e fra pochissimo sono di nuovo qua promesso mantenuto pochissimi secondi allora fabrizio questione mentale parlavamo di verre ma io mi sono fatto una mia personalissima opinione io credo che verra al di là dei problemi fisici che ha avuto che come diceva giustamente salvatore si sono stati enunciati ma magari c'è pure qualcos'altro che non sappiamo al di là di questo secondo me verre si era fatto un film diverso su questa serie b cioè era convinto di scendere in serie b e di avere maggiore facilità maggiore agio nel poter esprimersi e invece si è dovuto scontrare con una realtà che lo ha messo più in difficoltà magari per il tipo di avversari per magari per il tipo di marcature per un tipo di gioco che magari lui si ricordava in un modo e che negli anni è cambiato secondo me lui è entrato in questo inghippo mentale che non lo sta aiutando e dal quale deve uscire ma però scusami scusami fabrizio se corini un giorno lo impiega 45 minuti un altro 50 un altro 60 un altro 70 un motivo ci sarà perché è chiaro che quello è la misura è la dimostrazione che si sta cercando di recuperare nel miglior modo questo non c'è dubbio deve fare questo sì sì un problema psicologico sì ma per me lui ce l'ha un problema mentale verre giusto che giochi perché verre in questo palermo deve giocare bravo ma io sono totalmente d'accordo con te dico che secondo me verre dentro di sé sarebbe immaginata diversa però salvatore allora io vorrei fare un discorso un po diverso nessuno contesta verre e lo dico anche a fabrizio però a volte certo poi tu mi dici sempre una cosa che è sacrosanta noi non sappiamo a volte la verità vera che perché sta male se ha valori particolari se la condizione atletica in ribasso però sono momenti in cui il non c'è troppo tempo da aspettare ecco se fossimo alla seconda di campionato diceva beh soffri e aspetti allora la domanda potrebbe essere se verre mi dura un'ora quando va bene e a cagliari neanche un'ora è durato può darsi che ha un senso mettere damiani o mettere bro o mettere beh non dico né starice né stulac che comunque sono fuori sono sotto infortunio diciamo stulac ancora non è pronto ecco era questa un po il termine perché per esempio noi stiamo titolando quanti vantaggi buttati quanti errori oltre agli errori che poi li commette chi fa qualcosa è del caso di marconi per esempio a volte perdi perché non tutta la squadra gira come deve e allora forse andava sacrificato prima verre per mettere bro e fare un discorso diverso di forza non di qualità ma sai noi tiriamo fuori tutte le affermazioni possibili poi torniamo al punto di partenza ma tu mi fai una domanda alla quale io posso rispondere ma così sentimentalmente ma non certo con i numeri alla mano io prima desidero sapere perché verre ha perso improvvisamente tutta la sua condizione uno non era non era in condizione prima che venisse a palermo due ha avuto dei problemi tali per cui ha dovuto ricominciare quasi da zero io non lo so che cosa sia successo so soltanto che corini piano piano sta cercando di reinserirlo dopo quello che ha avuto lui e allora e allora lì non si possono fare miracoli si deve purtroppo andare contro alcuni convincimenti cioè dice metto dieci minuti prima però se verre che è un giocatore il cui rendimento è assolutamente indispensabile merita il sacrificio anche di un rischio è bene che che stia in campo e che ripeto per me io me lo auguro sia decisivo nei playoff fabrizio sei d'accordo sì sì no no ma io condivido pienamente quello che dice salvatore io ho dato una mia chiave di lettura riguardo a quello che può essere in questo momento il problema di verre però per uscirne se è un problema psicologico per uscirne deve giocare corini lo deve stimolare credo che già lo stia facendo per farlo rendere al meglio perché in questa rosa dopo dopo brunori forse prima di brunori c'è verre cioè non si può prescindere da verre e sarebbe bello vedere il verre che abbiamo ammirato nelle prime tre quattro partite quando ha illuminato con le sue giocate e alle volte correre il rischio di tenerlo in campo un po di più a beneficio di una condizione perché se vai ai playoff e poi bisogno di verre e non è che puoi fare a meno di verre quindi deve giocare secondo me ma può essere anche con una settimana di sosta gli possa fare bene proprio per evitare perché ci deve essere qualche cosa salvatore lo fa e lo so salvatore tu allarghi le braccia però guido però anche per una questione psicologia degli avversari un avversario che sa che c'è verre di fronte al posto di sapere che non c'è ma cambia completamente anche l'impostazione tattica io ho visto il benevento fare una triplica marcatura sistematica su verre e infatti non è riuscito a muoversi quindi è un giocatore che ti porta via uomini anche se non gioca bene e libera ai compagni cioè per me è una presenza imprescindibile allora io non contesto cioè non non voglio che minimamente si possa pensare che il contesto verre in generale io dico che forse una domenica di una partita di sosta possa fargli bene e possa fare bene al palermo che per ora ha trovato una discreta spinta sulle fasce perché sale e buttaro hanno risolto benissimo un problema che nasce da lontano secondo me e brunori ritorna in campo e ritornerà scevro da munizioni e con la carica giusta perché finalmente tirato un poco il fiato e a centrocampo dobbiamo essere leggermente più solidi e tornare quelli che giocavano sempre dietro la linea della palla e questo secondo me è uno degli argomenti poi chiaro io se corini sceglie verre avrà la sua logica la sua filosofia però dico il caos è bello anche perché ognuno ha delle teorie diverse credo brescia e non lo tengo in panchina venerdì non lo tengo in panchina verre per dipende in che condizione no a prescindere le sue condizioni io non lo tengo in panchina però questa è la mia opinione questo è la tua opinione sentiamo ancora i messaggi da parte dei tifosi allora bravo salvatore bravo salvatore allora cominciamo da c'era un messaggio proprio che era attinente allora cesare celauro stavamo parlando degli esterni dice sostiene che buttare un'invenzione chiave di corini che ha dato equilibrio e spinta inaspettata quasi d'accordo del tutto parlare di invenzione mi sembra un po troppo perché era diciamo la scelta naturale finiti finiti tutte le alle destri che potevamo giocare diciamo era diciamo c'è stato l'esperimento di segre che è stato bocciato che non ha dato i risultati di mariano si è infortunato dopo elia e buttaro secondo me ha anche il vantaggio per ora di essere quello che ha speso di meno durante la stagione quindi trova forze fresche giulio sapienza in 10 soleri correva più forte di vido che era svogliatissimo sì soleri devo dire che ha fatto una partita senza andare nei tabellini per qualche conclusione particolare però poveraccio ha inseguito mille palloni nel secondo tempo in condizioni non ottimali dal punto di vista tattico per cui sicuramente a soleri va riconosciuto il valore del sacrificio vido è entrato meglio altre volte questo anche secondo me decisamente c'è un'azione in cui potrebbe tranquillamente allargare su aurelio e va a fare una conclusione scapestrata completamente senza senza la può anche tirare però attirato senza convinzione attirato così un tiro un tiro floscio allora siete tantissimi ci state mandando più messaggi sempre le stesse persone noi cerchiamo tendenzialmente di dare spazio a tutti quindi se non vi ripetiamo i messaggi abbiate pazienza perché così diamo la possibilità a tutti di entrare nella nella dibattito giuseppe botto secondo voi verra gioca nella giusta posizione lo vedreste un po più avanti tale da poter esprimere il suo potenziale senza pensare alla fase difensiva beh non è che pensi molto alla fase difensiva salvatore ti pare troppo poco avanzato io devo dirti la verità una cosa che mi è venuta in mente ma così insomma quando tu ovviamente perdi un giocatore devi devi cercare la sostituzione migliore io avevo pensavo nei primi momenti adesso magari verre va in appoggio ad una punta no quindi ci sta anche che verre possa giocare diciamo con compiti addirittura come seconda punta salvatore un po la del piero beh diciamo così se vogliamo utilizzare questi vocaboli ma se io direi di appoggio insomma ecco perché hai a inventiva perché ha capacità di dribbling tiro eccetera no e poi sa servire al delizioso però se corini lo toglie e si chiama verre un motivo ci sarà siamo sempre a punto di partenza ragazzi che facciamo andiamo noi in panchina no no chiediamo a corini perché chiediamo a corini perché eugenio perché verre ha avuto questa involuzione io da punto di vista soltanto come dire di cronaca dico che la sua involuzione è venuta fuori dopo l'influenza quella che loro hanno utilizzato per influenza voglio essere pungente ma io non non mi pare che qualcuno abbia insistito molto nelle conferenze stampa e chiedere ma verre perché non non c'è lo faremo no no l'abbiamo fatto salvatore la risposta è sempre quella che ha avuto questi due attacchi violenti di influenza con gastroenterite che ha che hanno pregiudicato parecchio la sua condizione fisica che sta riacquistando pian piano però questo è quello che come dici giustamente tu ci viene detto poi non lo sappiamo se dentro c'è un'altra problematica che a noi non risulta esattamente questo fabrizio sono d'accordo con te cioè la scusa fra virgolette regge per due settimane alla quinta la stessa settimana dopo la febbre evidentemente o era una febbre particolare o c'è qualcos'altro oppure potremmo anche stabilire ma non credo salvatore che sia un problema soltanto tattico e che verre non trova la sua collocazione o la sua intesa con i compagni e questo lo fa apparire anche abbastanza dimesso no guarda se si fosse trattato di un giovane sarei stato d'accordo totalmente con con te ma trattandosi di verre tu sai chi pigli come lo devi utilizzare e non ti manca niente perché la sua utilizzazione sia nel miglior modo possibile va bene la domanda a corini la faremo senz'altro insistendo e già mi aspetto che verre poi fa la doppietta contro il prescia e viene qui con il dito medio alzato nei confronti quantomeno miei ma anche un po' tuoi tuoi sicuramente tuoi allora marco bianco ieri ricordiamo che si incontrava una squadra arrivata dalla lega pro ed una retrocessa alla serie a e con un paracadute di 10 milioni o anche di più credo e la differenza non si è notata affatto poi c'è quella nostra comunità si si parlano tra di loro si rispondono si si rintuzzano si beccano questa è la cosa bella il sale della della nostra mentre tu fai la raccolta e la disamina l'autopsia ai messaggi e che comunque poi potete vedere sempre sulle chat io faccio la solita pappardella per ringraziare blog sicilia stadio news e video regione che rimbalzano la nostra trasmissione che credono nel nostro lavoro e nella nostra capacità di giudizio ringrazio voi che siete sempre molto attenti a ogni lunedì a guardare la trasmissione siete davvero tanti vi ricordo che su blog sicilia trovate anche il podcast della trasmissione subito dopo la fine della della diretta e entriamo nel terzo nel terzo titolo che salvatore è quello che ci porta direttamente a venerdì già credo che siamo intorno ai 20 mila biglietti venduti è prevedibile appena scamperà diciamo l'ondata di maltempo e quindi già da mercoledì giovedì ci sarà certamente il record stagionale d'incasso forse non il pienone ma insomma intorno ai 30 mila spettatori che saluteranno il palermo comunque vada io penso che ci siano e allora ti chiedo quanto vale secondo te l'entusiasmo che poi lo abbiamo anche visto mercoledì scorso con l'allenamento a porte aperte con circa 3.000 tifosi che hanno salutato una normale partitella in famiglia del palermo anzi possiamo anche vedere le immagini di quell'abbraccio dei tifosi con con la squadra ecco l'entusiasmo quanto vale in questo momento specifico ma intanto facciamo gli scongiure perché pare che il maltempo possa durare anche un paio di settimana e questo non sarebbe un bel preludio insomma sono date miglioramento le previsioni il tempo è dato miglioramento sì sì l'entusiasmo vale sicuramente tantissimo palermo lo ha dimostrato non soltanto in questa occasione l'anno scorso ma sempre insomma soprattutto quando c'era qualcosa qualche obiettivo da raggiungere o qualche obiettivo o qualche traguardo da evitare insomma il palermo ha costruito tra l'altro in casa la sua stagione e in casa cercherà di chiuderla nel migliore dei modi entusiasmo e tifoso sono due magie che possono scoppiare da un momento all'altro io piuttosto punterei su un'altra cosa l'anno scorso per esempio baldini riuscire in un'impresa nella quale nessuno credeva ma il miracolo dove nasce in questi casi o quello che è questo che io mi chiedo il miracolo secondo me nasce dentro lo spogliatoio non solo quando hai i tifosi vicini e l'avversario davanti i primi ad essere convinti debbono essere l'allenatore e i giocatori e la società che deve creare attorno alla squadra il clima vincente altro che palermo in regola con le aspettative di una stagione di consolidamento qui bisogna vincere e avere grandi aspirazioni in questo momento di per sé entrare nel play off e uscirne subito cioè pensare che si possa uscire subito non servirebbe a niente ecco perché poco fa io ti dicevo no io entro nei play off con la convinzione di vincere ma sotto questo aspetto salvatore secondo me questa società direi che direi che manca abbastanza forse più corretto dire che ragiona in maniera diversa perché se è vero che adesso la salvezza è certificata sì sì no no ma attenzione hai già raggiunto la salvezza che era l'obiettivo minimo lo hai anche metabolizzato in qualche maniera adesso bisogna creare l'entusiasmo e secondo me non dovrebbe parlare solo curini che vuoi o non vuoi certe cose le dice da tre mesi anche contro l'evidenza lo ha ripetuto anche dopo i pareggi più deludenti anche dopo le sconfitte più beffarde che lui ci avrebbe creduto fino alla fine e ci crede in una partita che adesso cercheremo anche di analizzare come potrà essere palermo brescia però parla soltanto lui io mi sarei aspettato come è successo lo scorso anno un'attività di gruppo lo spogliatorio che si compatta e io immagino che i giocatori ci credano una società che interviene l'anno scorso ci fu anche la famosa chianata alla santuzza tutti una serie di eventi anche abbastanza casuali che hanno prodotto una chimica speciale credo che i 30 mila lasciamo perdere insomma che ci creda la società guarda a questo punto mi sembra un particolare che conta e non conta la società se ci crede lo dirà i diretti interessati e lì e lì mi sta bene ma che il che la magia nasca negli spogliatoi su questo non ci sono dubbi steccorini e i giocatori ci credono è un punto in più nesca nella scalata non solo verso il play off ma anche e metto i punti di sospensione fabrizio dibattito sempre molto acceso c'è sempre una frangia di nostri amici che questo aspetta volevo sentire anche il tuo intervento però l'entuzione guarda me le scene le scene a chiappa like delle acchianate alla santuzza dei comizi dal balcone per me lasciano il tempo che trovano anche a me come ha detto giustamente salvatore l'alchimia la deve trovare l'allenatore con la sua squadra baldini in parte è stato bravo anche a fare questo l'anno scorso ai play off al di là di tutto le esternazioni nazioni più o meno diciamo condivisibili io credo che corini sia il primo che voglia stupire voglia provare a stupire con questa squadra e credo che corini abbia fatto quest'anno un grosso favore a questa città molti è sfuggito questo particolare corini ha alzato l'asticella ne ha parlato con la società ha detto siamo lì proviamo ad alzare l'asticella per fare capire alla società che cosa significa il palermo e quali sono le aspettative di palermo questa cosa non è stata molto capita dall'ambiente ma corini ha fatto mettendoci la faccia e prendendosi anche i pesci in faccia ha fatto questa operazione proprio per fare capire al city group che cos'è palermo che a palermo non si possono fare anni di transizione che palermo ha l'ambizione di vincere che la gente di palermo vuole vincere e che lui da allenatore di palermo del palermo vuole vincere e quindi che ci vuole una squadra fatta per vincere e io però proprio in premessa dicevo 30 mila persone o giù di lì mi pare che siano un buon biglietto da visita certificano che comunque il palermo ha uno zoccolo duro rilevante questa non è neanche la partita ma questa è la premessa ma questa deve essere una premessa guida questa essere la premessa perché l'anno prossimo ci sia una squadra che supporti le ambizioni di 30 mila spettatori certo che poi diventeranno anche 40 mila è una squadra di quella che deve essere costruita per vincere e che ragionevolmente vinca poi la vittoria non è mai scontata però devi avere gli elementi per per partire almeno sperando ci abbiamo ancora un po di minuti fabrizio allora sui numeri comunque andiamoci piano ragazzi perché tanto tante volte siamo partiti con il tutto esaurito con uno stadio tutto di abbonati e poi dopo anni ci siamo ritrovati invece sempre a inseguire un po di passione io direi che ci vuole continuità soprattutto cioè dare dare l'impressione che tu non sei lì a fare l'esploit ma che tu negli anni e costruendo attorno alla società possa dare continuità di risultati e passione in più certo ma questa lunga scadenza però ti voglio dire 21 mila contro la spalla erano già un bel un bel risultato significa che lo zoccolo duro c'è 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 un un gruppo di tifosi veri di quelli che si arrabbiano si si entusiasmano ma vivono con la squadra e per la squadra rispetto a quelli che sono un po gli occasionali delle grandi occasioni che che poi sono i primi a contestare o a storcere la bocca Allora parlavamo di un dibattito che sta avvenendo di nuovo al centro Corini e la sua gestione che non è gradita a una parte dei nostri ascoltatori lo leggo perché è lungo ma lo devo leggere perché è giusto Federica Cordaro dice che in questa trasmissione non si parla mai male dell'allenatore dopo nove mesi in difesa si fanno sempre gli stessi errori si gioca sempre a intermittenza per non parlare che vogliamo sempre vediamo sempre le stesse partite ci facciamo sempre recuperare se non addirittura superare questa squadra è lo specchio del suo allenatore poi c'è chi come Alessandro dice Corini forever Su questo però vorrei dire una cosa cioè non è che cominciamo a educare anzi è una nostra vecchia battaglia Salvatore educare anche al linguaggio cioè non è che se tu dici che Corini è un pezzo di merda hai detto qualcosa in più Se Corini sbaglia secondo me o secondo Geraci o secondo te una sostituzione uno dice io avrei tolto tizio avrei messo Caio ne abbiamo discusso fino a ora con Converre con posizioni divergenti e dopo di che Corini è un professionista è una persona che conosce il calcio più di me più di Geraci e più di molti di quelli che scrivono e quindi c'è un limite fra la critica e la contestazione che secondo me è fuori luogo a prescindere perché Corini è stato sempre educato serio rispettoso e il grande lavoratore Poi ce ne saranno meglio di lui ma ce ne sono anche peggio e questa serie B lo dimostra poi sulla logica degli insulti non mi troverete mai mai d'accordo se volete scrivete che sono il lecchino di Corini che sono il lecchino di questa società che mi pare che sia sarebbe veramente fantasticamente irreale scrivete quello che volete ma non insultate perché non ve lo consento gente che fa comunque questo mestiere e lo fa con con dignità soprattutto Corini che poi ha anche un passato di quelli che non dobbiamo dimenticare Carmelo Amato sicuramente Corini molte cose le ha sbagliate ma secondo voi è la risposta a un partecipante alla community che difesa ha il Palermo altri sottolineano che la difesa del Palermo è composta all'incirca da giocatori che o vengono dalla Lega Pro come Marconi o che comunque sono retrocessi come Nede Saru diciamolo pure è Sala anche Sala anche Bettella giocava poco a Monza quindi questa è la difesa che ha dei limiti così come ci sono stati dei limiti probabilmente in attacco e così come il mercato invernale non ha funzionato come avrebbe dovuto ci sono tanti piccoli aspetti che però non possiamo condannare Perugia Spal e Benevento andranno in Serie C probabilmente in Perugia guardiamoci indietro ogni tanto cerchiamo di apprezzare quello che c'è e non è presente che non ci sfuga un particolare cioè questa è una società questa è una squadra che nasce da una società che acquista qualcosa come una ventina di giocatori cioè è un chiude un'era e ne apre un'altra adesso tu puoi avere la fortuna di indovinare subito il campionato però un po' di pazienza è un po' di pazienza perché già questa squadra ha raggiunto un risultato e adesso si propone per lottare con altre prospettive quindi non è che non abbia fatto nulla diciamo che un motivo di costruzione si è visto e bisogna aspettare ovviamente l'anno 21 poi per precisare determinate cose Sì mi sembra come la lapidazione di Zamparini cacciato via come se fosse l'ultimo dei ladri da una città che dovrebbe fargli la statua e che adesso anzi no adesso che fino all'anno scorso veniva rimpianto quando magari la prospettiva era diversa abbiamo terminato il tempo grazie a Fabrizio grazie a Salvatore grazie a voi ci vediamo lunedì e parleremo di Palermo Brescia che è una partita comunque da dentro o fuori per entrambe le squadre ma speriamo di poter parlare anche e soprattutto di playoff contro chi lo vedremo poi settimana prossima grazie a tutti quanti arrivederci ciao ciao